e ragazzi in zona mercati di traiano spuntano fuori dei fantasmi del passato ovvero rifugi templari non mi ricordavo l'esistenza anche in assassin's creed brotherhood di questi e allora li andiamo a fare per forza non mi dire otto minuti anche qui per la sincronizzazione totale ti prego se intanto carica è più veloce stavolta uccidi soltanto il tuo bersaglio beh vi dirò ci potrei anche stare magari mollando calci via abbassa la voce sto per farti diventare ricco ho appena acquistato una chiave da un tizio al mercato apre la torre delle milizie e com'è che mi farà ricco pare che la sala in cima alla torre contenga un tesoro le scale sono in parte crollate e mi serve il tuo aiuto per salire non siamo più soli allora porterai la scala a mia moglie sì lo farò di certo sei un vero amico della mia famiglia dovrò darti una ricompensa per il tuo aiuto non vedo l'ora la moglie no capitano segui i templari però da dove salgo da lì ok e qua per forza perchè lo so che mi vuoi inculare lo so lo so benissimo ma io non mi faccio inculare da te prepara la scala per questa notte e la mia ricompensa passasino che mira cattura il templare non vuol dire ucciderlo io ti vo' un culo così vai sguainatemi le spade bravo così tanto l'ho imparato come funzioni meno male ha detto alle armi perchè se diceva all'armi era abbastanza brutta la situazione e riparte così ok perché devi mozzarmi il piede no putta merda aspettate un secondo ok face to face adesso diavolo sta lontano da me assassino oh oh comunque si ci dovete fare un tastino per le scale eh perchè se no ero lì ero sotto tiro e non me l'ha fatta ammazzare ragazzi sto gioco è più scriptato di fifa e dai e dai e dai su non me l'ha fatta ammazzare dall'alto ragazzi vedo che ci devo fa e ti appendi Ezio madonna che palle c'è un comando sbagliato si e ti aspetto qua vuoi vedere chi l'ha ottenuta fanculo si doveva baggare capito si doveva baggare per farmi ok va bene praticamente adesso è un parole povere non dobbiamo uccidere nessun altro se no sincronizzazione totale sapete dove se ne va e io lo so dove se ne va vabbè tiploatore grosso di San Gimignano ho capito ai grafica ragazzi non c'è neanche paragone con quella di Assassin's Creed 2 potete dire quel che volete ma tutta un'altra cosa per fortuna non abbiamo quel chiudino fisso del tempo adesso ce la prendiamo con estrema calma come sempre tanto davvero questa volta non ci corre dietro nessuno se casco è finita sentito uno scrigno ma vabbè pazienza tu 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 eh ok però io non vedo un cazzo ragazzi ok adesso ha senso mi trovo un po' nella merda scusate ah ok va bene adesso ce l'ho mi dispiace non aver preso lo scrigno però questi cazzi anche se comunque qua ce n'è ero rimasto senza soldi perché ho aperto due acquedotti se vi interessava saperlo comunque e qua volendo nonostante tutto in otto minuti l'ho completata capito sti stronzi perché sapevano anche nella missione che in otto minuti avrebbero fatto tutti hai capito 100% di sincro signori e andiamo così a tingerci gli abiti perché ripeto voglio girarli un po' tutti abbiamo già fatto due o tre missioni con questo sono troppe uh la torre delle milizie allora reddito aumentato senza aver fatto niente ma va bene oh stacce provo di tanto sapere dove è il fienno sai la a posto so